La Chiesa è libera perché è fedele al Signore Gesù. Il mondo può essere favorevole, può applaudire in alcuni momenti la Chiesa o può contestare e perseguitare, ma il criterio con cui la Chiesa annuncia il suo Vangelo non è il successo o la popolarità, ma la fedeltà. E' dunque questa appartenenza al mistero di Dio e questa docilità allo Spirito che ci rende liberi di dire la verità buona che Gesù ha annunciato.